Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fippi Lì, un chilometro di coda per lavori tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Rallentamenti per lavori tra San Mignato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, svincoli chiusi per lavori in direzione sud a Gavorrano e a Follonica Nord e in entrambe le direzioni a Cecina Nord. Uscita chiusa per lavori a Rosignano Marittimo in direzione sud. Per lavori la strada provinciale 34 di Rosano sarà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia stanotte in orario 23.5 tra i chilometri 7.300 e 7.700 circa nel comune di Bagno a Ripoli. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!